io sono ryan telegen 2 e oggi sono in un nuovo daily vlog daily vlog si si è un daily vlog di porto avarese saluto alessandro zazzone saluto zazzone09 tanto proviamo questo piccolo slime ragnatela ragnatela pago un bocco che la bebe maschia si appiccica tutto nel barattolino ma non so perchè rimane tutto appiccicato ancora appiccicato ma un ultimo sforzo ma perchè sei così crudele brutto slime tiriamo tutto fuori lo voglio pulitissimo ragazzi mi sa che ci siamo guardate l'ho pulito l'ho pulito non l'ho pulito scurato mmm ma perchè ogni tanto la slime fa di scherzo ma non so perchè 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 mi fai sempre questo perchè non so perchè ma tra l'altro c'è il colorante attaccato colorante se lo vedete ma qua vedi si vede ragazzi intanto io gioco con lo slime io non lo stessi all'altra no che schifo quindi sempre un pongo quindi butto lo slime e giro la telecamera che lo andiamo a sapere allora vedrete c'è da i maresi qui c'è una fontanella ma stai che mi alzo e ve la faccio vedere ragazzi dei piccioni it's been a long day sebrano ok vabbè ragazzi ecco stiamo qua stiamo qua stiamo qua fontanella stiamo qua ci sono dei piccioni ancora e qua c'è un grande la cioè non è una fontana è una grande fontana bellissima qua va via fita rosso e io spacco questo è un bar c'è un bar c'è un bar tutto voglio che se ne va via raga ragazzi non c'è neanche niente guardate dimenticavo dimenticavo brutto vieni qua guardate ragazzi ora chiudiamo c'è? stiamo parlando con le stiamo qua vediamo il posto e l'altro un cassetto hanno bevuto un caffè è un Beh qua, sono dei piccoli un po', sto mangiando il pane, glielo ho dato il pane. Ragazzi, ciao gente!